non ci devi scassare a noi prima volta che guido in strada ma che cazzo mi fai volare mi fai volare aspetta che do una mano una magnissima proprio ma no lì corri la gasta laggiù corri la gasta laggiù per vincere la 6 corri e va vai a morire corri e va non si ferma che l'ho fatta per un pelo di culo attento che arriva quello sopra bello diego mi li diamo a mangiare mi ho fatto la porta niente è dentro lì diego attenzione fotografia è una mortissima io pirla so vita sono un cadavere con uno no cuocilo cuocilo ma porco giù d'ammazzano sta merda cuocilo cuocilo ecco la e andiamo cuocilo cuocilo e mi ha preso sto porco e mi ha preso sto porco giù d'ammazzano si è registrata e prendilo vaffanculo e andiamo porco giuda e andiamo e niente la mia aim ma va bene così va bene così e niente gara di Kimi sa di prima ho ucciso l'Ico grande Riccola e si siede anche morto ok ucciso anche l'altro credibile che qualcuno l'ha ucciso oh si sta curando dai 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 è stata bella sta partita per questo video è tutto ragazzi iscrivetevi al canale e buon divertimento iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale